Salve a tutti e benvenuti all'incontro organizzato nell'ambito della conferenza nazionale di statistica e sui nuovi servizi all'utenza dell'ISTAT e del SISTAN. Con un gruppo di esperti vedremo come le linee strategiche che sottendono all'innovazione introdotta e tutte sono tutte incentrate sull'attenta analisi dell'utenza e sulle esigenze informative. Partiamo dunque dando la parola a Roberta Roncati, responsabile dell'attività di profilazione e analisi dell'utenza, che ci presenta il progetto del nuovo contact center dell'ISTAT. Prego Roberta. Grazie Giulia, ben trovati a tutti. Vorrei partire subito raccontandovi questo progetto del quale mi occupo dall'inizio dell'anno e per il quale avrei tantissime cose da raccontarvi, ma so che devo andare in tempi rapidi. Per cui cerco di andare al dunque in questo modo. Allora, innanzitutto c'è un perché. Perché abbiamo pensato a un progetto di nuovo contact center? Perché l'ISTAT ha sentito l'esigenza di fornire un'interfaccia coordinata e unica appunto verso tutti coloro, cioè utenti ma anche rispondenti, rilevatori, fornitori addirittura che a vario titolo entrano in contatto con l'istituto. L'idea quindi è stata quella di creare una piattaforma multicanale, proprio multicanale, cioè basata su più canali in continua evoluzione. Questo dell'evoluzione è un tema importante, diciamo, al quale tengo particolarmente perché non solo vorremmo star dietro alle esigenze degli utilizzatori di dati, ma anche all'evoluzione ovviamente tecnologica, no? Si pensi, ad esempio, all'introduzione di strumenti guidati dall'intelligenza artificiale. Quindi la prima fase del progetto, che è stata avviata quest'anno, all'inizio dell'anno, si è data l'obiettivo intanto di concentrarsi sugli utenti, quindi di sviluppare il nuovo contact center, che è quello attraverso cui gli utenti già dal 2008, e fu, diciamo, l'ISTAT fu un po' pioniera in questo senso, addirittura prima di Eurostat, appunto, ebbe questo servizio per gli utenti in cui si potevano chiedere informazioni, microdati, cartografie, ricerche storiche, bibliografiche, ma anche dati europei armonizzati, all'esempio. Quindi diciamo che questa è la situazione da cui partiamo. Gli utenti hanno una modalità degli strumenti per entrare in contatto con l'istituto che sono molteplici, email, telefono, web, numeri verdi, canali social, e questo non è un problema, non è un limite. Il limite, semmai, è dovuto dal fatto che questi canali sono gestiti separatamente, sono strumenti diversi, con operatori dietro diversi. Quindi c'è una gestione interna dell'istituto che già di sua è complessa e a volte addirittura ridondante, non sempre strutturata, e quindi, diciamo, all'esterno la varietà di canali di accesso, diverse modalità di erogazione dei servizi che abbiamo attualmente sono appunto un po' disomogenee. C'è il contact center, l'ufficio stampa, l'ufficio relazioni con il pubblico. E se esiste una buona qualità dei servizi offerti, penso di poter dire che sia soprattutto per le capacità dei colleghi e degli operatori che operano appunto a contatto con i cittadini, giornalisti, ricercatori, le imprese, le pubbliche amministrazioni, e di volta in volta forniscono le corrette informazioni. In questo quadro, rispetto al contact center attualmente in esercizio, ci siamo proposti di fornire un servizio agli utenti più integrato, disponibile via mobile oltre che desktop, che offre una gestione strutturata, quindi, delle richieste, in compliance totale rispetto alla normativa vigente. Penso, ad esempio, al GDPR, ma anche all'autenticazione con Speed o CIE, solo per fare due esempi. Quindi abbiamo puntato sulla trasformazione digitale e sull'innovazione per, abbiamo puntato e stiamo puntando, diciamo, per dotare l'istituto di, intanto, una soluzione unica per esporre tutti questi servizi su un'unica piattaforma multicanale, questo per migliorare l'esperienza dell'utente, di avere una console dietro per gli operatori che sia più efficiente, quindi migliori anche la qualità del servizio, di avere complessivamente un portale che possa rendere gli utenti via via più autonomi anche nell'accedere ai servizi, e una gestione integrata poi delle richieste in tutte le sue fasi, quindi dall'avvio fino eventualmente al rapporto con la produzione statistica, se serve, o alla contabilità, se c'è un pagamento. Ora, non che siamo, diciamo, così bravi di aver già integrato tutto, però posso dire con certezza che stiamo lavorando in questa direzione e anche bene, cioè con un certo entusiasmo e impegno. La piattaforma utilizzata, scelta dall'Istituto Salesforce, che a parte, come ci dice Gartner, insomma, è uno dei leader nel mercato, ma al di là di questo, insomma, quello che è importante è che integra sia le funzionalità del CRM, cioè del Customer Relationship Management di per sé, quindi la parte operatore, sia quella del contact center, cioè all'esterno quegli utenti, e poi a molti servizi digitali che possono essere supportati dall'intelligenza artificiale, che è una cosa di cui, insomma, in cui ci stiamo muovendo, e ha una modalità di sviluppo estremamente flessibile, per cui siamo riusciti a strutturare in breve tempo con dei servizi in cloud che sono accessibili sia da qualsiasi strumento, diciamo, degli utenti, ma soprattutto lavorabili dagli operatori da qualsiasi posto, anche qui integrandoci rispetto all'esigenza di lavoro, di smart working, il resto necessario dalla pandemia. La metodologia di lavoro che c'è stata in qualche modo imposta, ma che, devo dire, è molto interessante, è questa del lavoro agile, cioè una modalità per cui ogni problema, ogni nuovo progetto va affrontato per step, sostanzialmente c'è una pianificazione, un disegno, poi c'è lo sviluppo, il test, la revisione, e si parte per sprint, quindi ogni volta c'è un avanzamento per fasi che rende sicuramente, diciamo, il lavoro chiaramente più efficiente in qualche modo, perché via via si arriva alla soluzione cercata. Consideriamo che stiamo parlando di un contact center dove appunto arrivano molti strumenti di condivisione e di supporto per gli utenti, gestiti finora in maniera diversa, quindi diciamo anche lo sviluppo non è lineare, non c'è una procedura dietro che sia unica, ma insomma stiamo arrivando a uno sviluppo via via superiore. Questo chiaramente ha anche comportato un cambio di mentalità proprio per l'istituto, devo dire che a tratti ancora non siamo così pronti perché è proprio un cambio importante, noi siamo abituati più a lavorare per progetti dall'inizio alla fine e non per evoluzioni continue di un progetto, però insomma devo dire che anche su questo ci stiamo adeguando, tutto l'istituto si sta adeguando rapidamente. Per quanto riguarda, diciamo, i prossimi passi, abbiamo sicuramente il progetto di uscire con una prima release di questo sistema che insomma già è stato sviluppato con alcuni servizi, non tutti quelli previsti dall'interno del contact, quindi siamo partiti con la parte dedicata agli utenti che chiedono informazioni e dati e supporto per la ricerca di dati, per quelli che chiedono elaborazioni personalizzate, quindi a pagamento, per il rilascio di microdati e il supporto nella ricerca di dati europei. Questo primo gruppo che sarà online, abbiamo il GoLive all'inizio dell'anno, probabilmente già a gennaio o comunque proprio nei primissimi mesi dell'anno e sarà seguito poi dalla messa online degli altri strumenti, degli altri servizi necessari per concludere l'attività del, diciamo, tutto quello che deve essere dentro il contact center, quindi l'ufficio stampa, quindi lo sportello per i cittadini, l'URP, quindi i servizi bibliotecari che avvengono attraverso la biblioteca o anche la vendita di volumi. Mentre facciamo questo, stiamo già pensando a come migliorare l'attuale contact center, per cui sempre in linea con questa metodologia agile, stiamo pianificando di aggiungere canali di accesso alternativi, cioè adesso l'accesso sarà solo via web, ma poi potremmo avere le mail, i canali social addirittura e soprattutto c'è questa volontà di dotare la piattaforma di strumenti di intelligenza artificiale. Chatbot, Voicebot, no, tutte queste, per cui è vero che l'Istat, diciamo, non offre servizi di vendita, è un servizio diverso, però in qualche modo anche qui l'intelligenza artificiale può aiutare a fornire un servizio migliore e più efficiente agli utenti. Poi, sempre nell'ottica di migliorare l'esperienza utente e di ridurre il ciclo di vita di una richiesta, cioè la lunghezza per l'espletamento di una richiesta, stiamo tentando di estendere questo perimetro della soluzione da una parte agli operatori di produzione che sono quelli che elaborano i dataset e forniscono i dati all'interno dell'istituto e dall'altra agli uffici amministrativi e contabili quando appunto è necessario ad esempio un pagamento per un'elaborazione personalizzata, per l'acquisto di un volume. In questo modo ci aspettiamo quindi che il tempo che passa tra l'apertura di una richiesta e la fornitura di un servizio si riduca sensibilmente. Infine, l'ultimo punto, quello forse più lontano e più ampio, è quello poi di attivare il numero di pubblica utilità, il 1510. Tanto lontano non è in realtà. Questo è un servizio attraverso il quale potrà passare sia il traffico inbound, quello in entrata, sia quello in uscita, quindi anche per la gestione delle rilevazioni, per i rapporti con i rispondenti. Direi che brevemente vi ho detto tutto, il quadro è questo. Grazie. Benissimo. Grazie, grazie Roberta Roncati per questa presentazione, seppur rapida, molto efficace e in effetti il passaggio dal vecchio al nuovo contact center offrirà veramente un passo avanti per la gestione della relazione con l'utenza dell'ISTAT. Passiamo dunque, rimanendo sempre in ambito ISTAT, alla presentazione di Michela Troia, che è la responsabile dell'attività di gestione e redazione del sito web dell'ISTAT e del portale SISTAN e che ci presenta qui oggi il nuovo sito ISTAT, quindi il progetto che è in essere e che vedrà la luce nel prossimo anno. Passo dunque la parola a Michela, prego. Grazie, salve a tutti, bentrovati. Siccome diceva Giulia, io sono responsabile del sito web dell'ISTAT e del portale del SISTAN, la mia presentazione è confermata con il collega Antonio Pitrone, responsabile IT dei siti e dei portali dell'ISTAT. Allora, voglio iniziare questa presentazione parlandovi di come è nata l'idea, come è nata l'esigenza di disegnare di un nuovo sito web e di quali sono state le nostre scelte. Avete mai visitato il sito dell'ISTAT? Qual è stata la vostra esperienza utente? Questa è stata la domanda dalla quale siamo partiti. Qual è l'esperienza d'uso degli utenti del nostro sito web? Quindi per rispondere a questa domanda ci siamo mostri su due direttrici. Da una parte l'analisi dei nostri utenti esterni effettuando dei test di usabilità. Dall'altra l'analisi sui nostri utenti interni interpellando il nostro top management. Questo al fine di individuare punti di forza e punti di debolezza del sito attuale in essere. Quindi per migliorare il sito attuale e per gettare le basi per progettare un nuovo sito più moderno più flessibile sicuramente più centrato attorno più disegnato attorno all'utente e rivisto non solo nell'architettura dei contenuti ma anche nell'infrastruttura tecnologica. Allora volevo come dire mostrarvi il scusate allora sì volevo condividere con voi quali sono i principi che ci hanno portato a come abbiamo abbiamo fatto l'analisi del sito in essere quindi le criticità che abbiamo individuato nel sito in essere sono innanzitutto un design piuttosto datato perché è un sito che si sviluppa un sito che si sviluppa su quattro blocchi rigidi dei margini tra i diversi le diverse card sono poco 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 sono molto piccoli c'è un uso dei font caratterizzato da piccole e poche variazioni non c'è un centro di attenzione tranne l'highlight centrale non c'è un non ci sono dei punti di attenzione degli highlight e poi c'è un forte squilibrio tra la quantità di testi presenti e gli elementi visivi questo rende difficile per l'utente la mole di informazioni che si rispecchia i molti contenuti che l'istat la varietà e la numerosità dei contenuti che l'istat produce però rende difficile per l'utente muoversi in questi in queste informazioni un altro elemento un altro punto di un altro punto di debolezza del sito in essere è la presenza di molti menu quindi abbiamo un menu principale addirittura quattro menu nel nel footer come ci siamo regolati per la per disegnare la nuova la nuova home page quindi abbiamo pensato ad un design più moderno un layout più fluido completamente ristrutturato completamente responsive che sfrutti tutta la larghezza del browser in questo nuovo sito abbiamo come potete vedere un un motore di ricerca assolutamente prominente che porti l'utente direttamente alla ricerca dell'informazione la pagina è sviluppata in senso verticale con delle bande orizzontali che siano ariose che utilizzano delle grafiche delle titolazioni chiare moderne e che facciano sempre capire il il punto nel quale il tipo di prodotto che l'utente sta visitando quindi un uso di icone che aiutano la lettura e visualizzazioni e grafici andiamo a vedere il menu principale nel menu principale abbiamo sono stati i temi mentre nel sito online i temi sono esplosi per sottotemi qui abbiamo i temi sono collassati in un unico menu quindi dai temi si arriva ai sottotemi e direttamente si può entrare nelle pagine di tema specifico poi abbiamo un punto di accesso direttamente nei dati nell'ingresso nei dati troviamo in ogni ingresso per tipologia quindi nei dati nell'analisi nelle classificazioni c'è un motore di ricerca interno che ricerca esattamente in quella tipologia quindi nei dati troviamo l'accesso diretto ai dati quindi i micro dati le tavole di dati le banche dati nell'analisi e notizie invece abbiamo l'accesso alla statistica commentata quindi l'accesso ai comunicati stampa alle pubblicazioni alle infografiche in classificazioni e strumenti abbiamo le classificazioni che l'ISTAT produce gli strumenti T che mette a disposizione degli utenti i censimenti rispetto alla pagina attualmente in essere vengono portati in primo piano e quindi la voce censimenti nel menu principale che porta alle diverse sezioni dedicate al censimento generale e a tutti i censimenti una per ogni censimento permanente quindi popolazione imprese non profit e istituzioni pubbliche nella voce istituto abbiamo tutto quello che racconta il nostro istituto quindi l'organizzazione gli uffici territoriali l'amministrazione trasparente in alto troviamo una lettura per utenti quindi utenti privilegiati sono per l'istat i rispondenti cioè coloro che vengono chiamati a rispondere alle nostre rilevazioni quindi hanno un accesso qui subito in evidenza accanto altre due accessi sempre per utenti quindi info e servizi troviamo l'accesso per tipologia di utente quindi ricercatore decisore pubblico cittadino comune accanto l'accesso per i media ancora un altro target di utenti per noi molto caro come dicevo prima anche c'è un utilizziamo un set di icone quindi qui come potete vedere per esempio c'è subito abbiamo qui abbiamo una una stripe in cui possono essere messi in evidenza diversi contenuti quindi come vi dicevo prima un sito fluido quindi queste stripe possono essere una due fino a cinque stripe in cui possiamo mettere in evidenza più contenuti un'importanza maggiore ai grafici qui abbiamo riprodotto i grafici che sono sul sito attuale ma stiamo ripensando a quale tipologia di grafici mettere quindi non solo l'andamento del grafico ma anche l'indicatore e la variazione rispetto all'anno precedente quindi poi abbiamo una stripe con i contenuti in evidenza per esempio i microdati le notizie le audizioni parlamentari segue tutta un'area dedicata ancora una volta ai media quindi con i comunicati stampa con un accesso ai calendari di diffusione alla sala stampa poi una stripe dedicata agli eventi seguono le pubblicazioni come vedete qui è molto importante l'utilizzo dei background perché è subito chiaro all'utente dove si trova e quali contenuti sono pubblicati in quella parte del sito avendo un sito come dicevo prima che si sviluppa in maniera verticale ci dà la possibilità di esplodere a questo punto invece i temi che avevamo nel menu principale collassato qui invece li troviamo direttamente esplosi quindi l'utente ha più lati per accedere ai temi nel menu principale che rimane sempre presente e poi in questa stripe di sotto può raggiungere direttamente i sottotemi qui abbiamo due aree molto cari all'istituto la ricerca che è la qualità in quanto ente di ricerca questi sono contenuti che hanno una loro prevalenza qui abbiamo un altro spazio per mettere in evidenza dei contenuti che sono un po' contenuti come dire un po' all'altre delle nostre diffusioni tipiche perché per esempio in questo caso abbiamo messo un contest con i censimenti abbiamo avuto diversi abbiamo fatto diversi contest quindi possono transitare in quest'area o infografiche o video quindi contenuti più dinamici per dare appunto dinamicità e sotto rimangono perché abbiamo un po' riportato cercato di riprodurre quelli che sono i contenuti nella home attuale quindi qui abbiamo un accesso a come dire a delle sezioni privilegiate quindi una sezione web dedicata al benessere e alla alla sostenibilità una sezione dedicata al alle statistiche sperimentali che l'istat produce accanto alla statistica ufficiale una sezione dedicata al al nostro alla nostra banca dati semplificata e una sezione dedicata a dati alla mano che può essere una sezione semplificata per chi non è esperto di statistica un'altra pagina che vi voglio mostrare è la seconda pagina c'è la pagina di tema che a parer nostro è la pagina un po' più critica quindi le criticità di questa pagina questo è il sito così com'è soprattutto una delle criticità maggiori è il fatto di avere queste tab che non sono di immediata comprensione per l'utente perché è una navigazione un po' diversa rispetto alle altre pagine il fatto di avere ogni tab ha dei contenuti che però non vengono intuitivamente distinti anche qui abbiamo una densità di informazioni che non aiutano l'utente ad orientarsi quindi come ci siamo regolati abbiamo cercato delle card per delimitare i contenuti abbiamo fatto in questo caso uno sviluppo della pagina come vedete vi dicevo prima le icone ecco qui siamo in una pagina di tema la stessa che abbiamo visto sul vecchio sito questo è sul nuovo sito quindi abbiamo un'icona che accompagna abbiamo ogni contenuto ha una forma diversa quindi vediamo che qui ci sono c'è un background diverso rispetto alle audizioni e poi soprattutto la cosa principale c'è una lettura un menu laterale in modalità vertical sidebar navigation quindi appena si entra nella pagina è facilmente comprensibile quali sono i contenuti e quindi si può direttamente andare alla pagina mi avvio alla conclusione e quali sono i prossimi passi i prossimi passi come vi dicevo prima rinnovare non solo quello che vi ho mostrato il mock-up e il design visto insomma il poco tempo che avevamo non vi ho illustrato le fasi intermedie anche dal punto di vista tecnologico stiamo facendo delle scelte stiamo facendo delle valutazioni quindi il prossimo passo stiamo analizzando l'infrastruttura tecnologica che abbiamo confermato essere headless quindi avere due diverse tecnologie lato back-end e lato front-end la realizzazione come vi anticipava anche Giulia quindi la realizzazione perché abbiamo fatto soltanto la progettazione del nuovo sito quindi la realizzazione del nuovo sito l'inizio della migrazione speriamo per la fine del prossimo anno di essere online benissimo grazie grazie ringraziamo Michela Troia per questa presentazione sicuramente anche qui vediamo un grande passo avanti per l'utenza del sito web dell'ISTAT rimanendo su questo tema appunto di portali e siti web introduco la presentazione di Mirko Benedetti che è il responsabile della gestione il responsabile della redazione diffusa del portale SISTAN e che ci presenta oggi appunto il nuovo portale nella sua interfaccia e nelle linee di sviluppo prego Mirko ti passo la parola grazie ben trovati il nuovo portale del SISTAN di cui oggi vi presento un'anteprima scaturisce dall'attivazione di un sistema di logiche di ascolto degli utenti rappresentato per quanto riguarda il pubblico generalista dagli output informativi degli strumenti di web analytics e dalle indagini di customer satisfaction che abbiamo condotto negli anni e mentre per quanto riguarda l'utenza professionale cioè limitatamente alle indicazioni che volevamo desumere dagli operatori del sistema della statistica ufficiale a livello centrale e locale abbiamo fatto ricorso ad un set di domande ad hoc che abbiamo inserito nelle ultime 5 edizioni della rilevazione EUP proprio per raccogliere il punto di vista dei responsabili degli uffici di statistica su conoscenza utilizzo soddisfazione e orizzonti di miglioramento del sito del sistema l'esito di questo lavoro che vengo a mostrarvi adesso tramite un mock up che consentirà una navigazione in anteprima di alcune parti del sito è il risultato del lavoro congiunto di tre direzioni istat quella di coordinamento del sistema quella della comunicazione e alla direzione ICT con un supporto di un team di consulenti esterni vi faccio vedere adesso l'anteprima dicendovi in premessa questo è l'aspetto della sommità dell'home page del nuovo sito del system che come quello dell'ISTAT avrà uno sviluppo in verticale però prima di entrare con qualche dettaglio nell'esame di questa home page vorrei dirvi che gli elementi di novità che caratterizzano il sito sono quattro in primo luogo il rispetto alla versione attuale il rispetto delle norme Agit per i portali della pubblica amministrazione che quindi rende questo sito perfettamente rispondente agli attuali standard di accessibilità permettendo l'uso di applicazioni documenti elettronici app siti indipendentemente da eventuali difficoltà dell'utente per esempio difficoltà di natura fisica tecnologica o ambientale l'altro aspetto del sito è la sua evoluzione tecnologica col passaggio da un type 3 a Drupal un sistema per la gestione dei contenuti che è di tipo open source tra i più utilizzati attualmente flessibile versatile in grado di gestire workflow redazionali complessi e per questo rispondente alle esigenze del team di redattori che sta dietro il sito che è dislocato in ognuna delle sedi territoriali dell'Istat e che lavora da anni secondo una logica di network fortemente improntata all'interazione collaborativa il sito sarà anche responsive la nuova versione del sito sarà anche responsive per cui il portale riconoscerà il dispositivo utilizzato dall'utente per interrogarlo per consultarlo e quindi si adatterà automaticamente griglie flussi editoriali menu e griglie inoltre questa circostanza diciamo evolutiva oltre naturalmente a migliorare l'esperienza di navigazione del sito lo premierà in termini di risultati sui motori di ricerca perché notoriamente i motori di ricerca privilegiano i siti che sono responsive l'altra evoluzione è rappresentata dal potenziamento del motore di ricerca che avrà un ruolo preeminente rispetto a quanto aveva in passato con un potenziamento delle sue modalità di interrogazione di navigazione e di ricerca andando a scorrere sul mockup e le caratteristiche vediamo in ordine di comparizione come vi dicevo oltre al restyled il logo del system che ha subito only over restyling il motore di ricerca che diversamente dal precedente non permette solo l'esplorazione dei contenuti in termini generali ma anche l'esplorazione di sotto insiemi di contenuti da quelli marcatamente informativi come quelli dinamici legati alla produzione di notizie a cura del team dei redattori a quelli organizzativi con possibilità di conoscere i riferimenti di tutti gli oltre 3000 enti del system fino a quelli relativi alla produzione statistica in senso stretto e quindi sarà un motore di ricerca che esplorerà per esempio il database del programma statistico nazionale attuale di quelli passati e di tutti quelli precedenti a seguire sulla barra di navigazione orizzontale abbiamo i menu istituzionali l'aspetto che hanno è cliccando è fatto da menu a tendina dove volta per volta il layout che avremo sarà di questo tipo con un corpo centrale che descrive la risorsa informativa in oggetto e una sidebar dove sono disponibili gli allegati e le risorse informative di approfondimento in sintonia con le indicazioni che ci provengono dalle indagini di customer e dalla rilevazione EOP di cui ho parlato in precedenza abbiamo deciso rispetto alla versione attuale del sito di dare preminenza all'area informativa portando in piena visibilità i contenuti informativi divisi in due slot quelli in evidenza e quelli potremmo chiamarli delle brevi in evidenza raccoglie articoli di spessore di analisi di approfondimento che trattano temi di interesse per il mondo della statistica ufficiale mentre EVE News a carico delle singole redazioni territoriali danno conto dell'output informativo del sistema quindi prodotti eventi servizi innovazioni di processo e di prodotto ma anche buone pratiche evoluzioni normative e quant'altro l'aspetto che ha una notizia quando andiamo a cliccare sul titolo vedete ancora una volta quello di un corpo centrale che descrive in questo caso una pubblicazione della regione Friuli-Venezia-Giulia gli elementi identificativi il titolo e il sottotituto nella sidebar anche qui le risorse informative collegate in termini di allegati e di tappet in questo come in tutti gli altri contenuti ci sarà sempre un'interfaccia che permette all'utente di esprimere il proprio feedback su questo specifico contenuto per permettere alla redazione di attuare se del caso le necessarie azioni correttive tutti i contenuti inoltre nella parte bassa nella parte inferiore dello schermo sono correttati da una serie di riferimenti ad argomenti correlati la sezione informativa è poi completata dalla zona degli appuntamenti che ci fornisce un calendario delle iniziative SISTAN in programma su tutto il territorio nazionale e da un'area degli strumenti utili che contiene risorse formative e informative l'area del PSN a cui è stata dedicata una sezione ad hoc nell'area della nostra rete invece la potremmo chiamare la rubrica del sistema statistico nazionale con possibilità di interrogazione a livello per diverse chiavi di lettura da quella geografica a quella tipologica fino alla ricerca per nome con possibilità per ognuno dei 3.000 enti SISTAN di conoscere riferimenti descrizione dell'attività in ambito statistico e output informativo poi abbiamo la newsletter collegata al sito ormai l'agenda SISTAN che fa un riepilogo settimanale dei contenuti del sito e proiezioni anche la settimana successiva dopodiché nella parte sottostante i link canonici potremmo dire rappresentati sia dal questionario che i rispondenti possono sempre compilare per aiutare il team dei redattori ad attuare le necessarie operazioni di miglioramento se del caso poi vedete i pulsanti classici del footer con note legali privacy e poi i riferimenti dei siti delle redazioni territoriali e quelli della redazione centrale al di là in chiusura delle innovazioni progettuali e tecnologiche di wbusystem.it vorrei pure dire che il suo ingrediente fondamentale è la collaborazione degli utenti Sistan che invito quindi a proseguire il lavoro diciamo di network che è stato fatto finora per accrescere il senso di identità e di appartenenza degli utenti al sistema e promuovere la funzione statistica per il paese grazie benissimo grazie grazie Mirko Benedetti questo nuovo portale Sistan si inquadra in un'attività complessiva di innovazione dell'offerta di comunicazione e diffusione del Sistan e quindi in questo discorso si inquadra anche la presentazione successiva quella di Andrea Bruni ricercatore Istat che ci presenta infatti il progetto e lo stato dell'arte del nuovo Sistan Hub prego Andrea grazie Giulia ben trovati in Istat quindi al Sistan mi occupo del nuovo sviluppo del lab della statistica pubblica da diverso tempo in Istat infatti si vuole costruire un portale open data per la diffusione dei macrodati prodotti nel Sistan abbiamo incassato nel tempo il sossegno di tutti gli attori istituzionali tra cui il Comstat ma ci sono state va detto delle innegabili difficoltà per stabilire una relazione insomma un'effettiva cooperazione in ambito Sistan ma non molliamo anzi rilanciamo il booster appunto qui nel titolo e con il rinnovo degli strumenti di lavoro questo è l'home attuale del lab esposto sul portale Sistan con un client ormai obsoleto è problematico abbiamo appena visto che il portale Sistan cambierà totalmente la stessa cosa esaccinge a fare l'hub che sempre nel portale Sistan risederà di questa schermata segnala allora solo l'ultimo paragrafo cioè il documento di progetto da consultare e la casella di posta cui contattarci per aderire le parole chiave della ripetuta offerta sono due sostanzialmente qualità e tecnologia la qualità l'immagine lo suggerisce è un processo complesso incessante a ciclo continuo per la tecnologia questa nuvola nuvola evoca invece il cloud è listato come csp cloud service provider ma vediamo nel dettaglio qualità significa migliore accessibilità in un unico punto di accesso vengono esposti dati che risiedono presso gli enti aderenti attenzione quindi non c'è trasmissione dati ad istat nell'architettura tab ma un nodo centrale per l'interconnessione e un insieme un numero di nodi locali in cui ogni ente partecipante al progetto espone i propri dati qualità significa poi migliore fruizione del dato a livello di nodo centrale il nuovo client il data browser già utilizzato per i censimenti in istat quindi ampiamente testato offre mappe alla massima granularità ampia tipologia di grafici dashboard totalmente personalizzabili possibilità di allegare documentazione come una nota metodologica e tanto altra ancora il sistema è totalmente bilingue oltre a questa interfaccia molto user friendly estremamente curata implementa anche l'accesso via API consentendo l'estrazione dell'informazione in vari formati come messaggi sdmx csv json rdf di cat ap facilitando così il percorso verso gli open data i dati come detto restano presso chi li produce perché applicando il modello informativo dello standard sdmx si giunge a quella che possiamo definire una semantica comune delle informazioni brevemente lo standard per chi non lo conoscesse lo standard sdmx è risultato un'iniziativa globale evoluta 20 anni fa dai 7 sponsor di cui vediamo il logo in questa slide tra cui Eurostat quindi ora oggi è lo standard che si è imposto nella comunità statistica internazionale per lo scambio di dati e metatati statistici per cui secondo i dettami sdmx per scambiare dati aggregati bisogna definire una dsd una data structure definition dicevo semantica comune questo vuol dire centralità del metatato vuol dire che i dati sono organizzati condividendo concetti e classificazioni rendendo quindi efficiente l'integrazione dei dati tra i vari domini statistici e quindi maggiore coerenza e confrontabilità e comparabilità scusate e quindi maggiore qualità del dato velocissimamente un esempio di modellazione che ci faccia capire intuire direi la natura metadata driven del sistema immaginiamo di dover diffondere i numeri dello sport di fonte coni si definisce nello specifico una dsd a sei dimensioni di cui quattro segnalate in rosso sono recuperate da un contenitore comune a tutti i domini e a tutti gli enti un contenitore cross domain definito e manutenuto da istat coni definirà il suo specifico mini contenitore di concetti ce ne sono due in questo caso organizzazione sportiva e movimento sportivo e a destra possiamo osservare la tavola che ne risulta questa è appena tratteggiata per sommi capi l'integrazione dei concetti l'integrazione significa chiamare le stesse cose allo stesso modo sembra una cosa facile ma è questa la nozione di interoperabilità che non è invece facile per niente e similmente si condivideranno assaggio ancora più delicato le classificazioni per essere più precisi le codelist per cui ci saranno un'unica codelist del territorio un'unica codelist della periodicità e così via questo sta a significare che tutti utilizzeranno i medesimi codici quindi no trascodifiche sì comunicazione machine to machine venendo alla componente alla rinnovamento consolidamento della componente tecnologica il software va detto è stato completamente re-ingegnerizzato è open source si trova su GitHub basta cercare su Google il titolo di questa slide questo lungo inventario qui è solo per elencare quanto è per far vedere quanto è possibile fare con le due applicazioni web che compongono il toolkit il metadata manager in pillola è l'ambiente di back office in cui l'operatore gestisce dati e metadati il data browser invece è la piattaforma di front end che espone in cui si navigano i dati e metadati che sono stati pubblicati tramite il metadata manager un punto secondo me nodale da sottolineare un passaggio chiave è che questo toolkit può essere utilizzato in senso tradizionale diciamo stand alone come sistema corporate di diffusione ed è quello che ha fatto Istat per i censimenti è quello che farà e questo va bene va benissimo ma questo toolkit però nasce si sviluppa come architettura hub questo significa che può come dire mettere a terra tutta la sua potenza le sue potenzialità nell'ambito di un progetto multi source dove più organizzazioni legacy gli enti si stanno aderenti espongono i propri database tramite web services sdmx di più Istat nel suo ruolo di volo strategico nazionale ambisce a mettere a disposizione della PA un catalogo di servizi qualificati in aderenza le direttive agit si parla di SaaS software as a service essendo quindi il system l'ecosistema naturale di questa nuova prospettiva ed essendoci in hub un grado di maturità statistica e tecnologica notevole proprio l'hub è stato designato come progetto pilota come che è stati del podo strategico nazionale di questo progetto strategico d'istituto è come la figura suggerisce c'è una soluzione chiave in mano si può dire in cui Istat rende disponibile toolkit sul proprio spazio cloud quindi chi aderisce non deve installare nulla ma solo fare login su un server cloud di Istat e si trova il suo toolkit il suo ambiente dedicato da utilizzare in sicurezza e anche l'ultima riga anche agli aggiornamenti software pensa a Istat centralmente concludendo i punti da segnalare sono i seguenti armonizzazione dei contenuti diffusi quello che dicevo la semantica comune concetti e classificazioni integrate accesso facilitato per l'utente che trova i dati di tanti enti in un unico punto anzi c'è da dire che lo stakeholder non è soltanto l'utente finale classico ma anche il policy maker che trova i dati di interesse organizzati convenientemente in questo portale non è un esempio fatto a caso abbiamo già ricevuto input in questo senso recentemente terzo punto moduli software qualificati toolkit chiave in mano quarto punto notale è la formazione il progetto è sostenibile se e solo se il know-how su SDMX è condiviso e per ultimo riuso l'evocata potenza potenzialità da mettere a terra della struttura sta nel fatto che i medesimi dati possono fare da servente possono alimentare n progetti chiunque si può strutturare il il progetto in modo che chiunque possa essere il nodo centrale ad esempio si può costruire velocemente un annuario territoriale linkando i dati altrui non duplicando linkando e filtrandoli in base alle proprie esigenze particolari si aggiungono i propri dati locali e l'annuario completato questo è stato già fatto con successo a livello regionale e chiudo riprendendo il frammento finale della prima slide scriveteci a dcr chiacciolistat dico agli enti system scriveteci a dcr chiacciolistat punto it e troveremo insieme una soluzione appropriata e confacente grazie per l'attenzione grazie ringrazio anche Andrea Bruni per la sua presentazione tutti questi progetti si inseriscono pienamente mi sembra di poter dire su un concetto di interoperabilità che è alla base anche della transizione digitale della pubblica amministrazione e quindi sono particolarmente importanti molti dei quali vedranno la luce proprio durante il prossimo anno nel 2022 ringrazio quindi i nostri relatori per le loro presentazioni ma soprattutto chi oggi ci ha seguito e ha partecipato al nostro incontro grazie ancora arrivederci